Ciao a tutti ragazzi, si è Norco Verde in questo video vi farò vedere un nuovissimo Wallbridge Glitch su Fortnite il Wallbridge Glitch si trova in questo punto della mappa dovete arricarvi precisamente dove sono io, dove c'è questa casetta di legno e qua come ben potete vedere sarà buggato e voi accovacciandovi potete entrare stando qua dentro al Wallbridge Glitch sarete invisibili agli altri giocatori e immortale vi consiglio di fare questo Wallbridge Glitch se proprio lo volete fare solo per nascondervi in quel momento ma non ammazzate nessuno perché se ammazzate qualcuno stando all'interno del Wallbridge Glitch quel giocatore potrebbe segnalarvi e voi potete essere bannati in quanto gli sviluppatori di questo gioco aggiungerei fortunatamente non tollerano giocatori che utilizzano bug e glitch comunque questo Wallbridge Glitch sicuramente verrà patchato presto probabilmente con un nuovo aggiornamento con una nuova patch quando questo Wallbridge Glitch sarà patchato lo scriverò nel titolo del video quindi niente ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto vi raccomando lasciate un bel pollice in in su un commento iscrivetevi al canale condividete il video seguitemi su Instagram e sulla pagina Facebook trovate tutti i link in descrizione e da Orcovered è tutto noi ci vediamo al prossimo video bella